Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10. L'apertura del notiziario anche oggi è dedicata all'emergenza occupazionale a Gela, protesta ad oltranza per 15 lavoratori che chiedono la revoca del licenziamento. Vediamo. Continua pacificamente la protesta dei 15 lavoratori Riva e Mariani a cui è stata recapitata la lettera di licenziamento. Seconda notte consecutiva al presidio dinanzi allo stabilimento petrolchimico di Gela e nessun incontro ancora con i vertici dell'azienda di riferimento. Le vostre richieste sono sempre le stesse, chiedete un incontro con i vertici dell'azienda ma adesso qualcosa si sta muovendo, domani siete stati convocati a Palazzo di Città e poi successivamente dovrebbe esserci anche un incontro prefettizio. Sì, noi speriamo in questo per quanto riguarda sia domani per il fatto che il sindaco ci riceverà al Comune e quindi speriamo che già da lì partirà qualcosina positiva nel senso che si muoveranno nel senso che la ditta si convincerà di revocare licenziamenti e poi di conseguenza aspetteremo anche risposte da parte delle segreterie e quindi anche di Riva e Mariani di questa conferma dell'incontro che ci dovrebbe essere a Caltanissetta per discutere la nostra avvertenza che è quella che noi gli chiediamo e gli chiediamo fermamente di revocare i licenziamenti. Perché come abbiamo ribadito già in altre situazioni a Riva e Mariani è una delle aziende che ha due contratti a questo punto sia per quanto riguarda i ponteggi che coibentazione e non si è sentito mai dire che è un'azienda che ha due contratti presi tra l'altro con 42 lavoratori e approfittando di questo momento un po' incerto che stiamo attraversando tutti comprese anche le ditte che è l'unica azienda che si è permessa il lusso di licenziare 15 lavoratori. Quindi noi a tutto questo ribadiamo la revoca immediata dei licenziamenti e poi per tutto quello che ci sarà eventualmente da discutere siamo pronti a discutere perché noi siamo anche dei lavoratori che siamo stati sempre pronti ad andare in trasferta e non abbiamo mai avuto problemi in questo senso. Quindi io ripeto sempre l'unica cosa che noi vogliamo è la revoca immediata dei licenziamenti. Voi state certamente trascorrendo un'estate molto tribolata immagino. Certo sicuramente un'estate che nessuno mai si aspetterebbe di passare anche perché l'estate è il momento dell'anno in cui uno spera di rilassarsi un attimino di più sia personalmente che con la famiglia soprattutto e quindi i bambini. Però tutto questo la Riva in Mariani si permette sempre il lusso di non farlo, di non farlo fare alle persone ai lavoratori e noi a tutto questo non ci siamo e siamo stati anche disposti a passare qua delle notti che ieri notte è stata la seconda notte che abbiamo passato qua ma a tutto ciò noi non ci fermeremo perché noi vogliamo innanzitutto il nostro posto di lavoro. Aggredito l'ex moglie siamo alla cronaca nei pressi dell'abitazione di piazza nei pressi della piazza del maresciallo di Mea Gela e per poco non la trascinava via mentre la donna cercava di bloccarlo in auto. Gli agenti di polizia hanno arrestato un 32enne, l'uomo già destinatario di un provvedimento che gli evitava di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex l'ha ugualmente affrontata portandole via anche la borsa. Nel tentativo di riprenderla la vittima ha rischiato di essere trascinata via dall'auto del 32enne. L'uomo si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dai poliziotti che lo hanno arrestato e trasferito nel penitenziario di Contrada Balate. Alcuni giorni fa un'altra aggressione ai danni dell'ex si sarebbe verificata all'interno di un lido balneare. L'arrestato non ha esitato questa volta a mordere la sua vittima. Sarebbero i responsabili di un furto messo a segno un mese fa all'interno di una delle agenzie assicurative Allianz della città. Così i carabinieri del reparto territoriale hanno arrestato il 45enne Roberto Asmetto e il 25enne Alexandru Popu, il primo, avrebbe agito da palo. Il secondo invece si sarebbe materialmente introdotto negli uffici portando via i due PC. Adesso si trovano ristretti nelle rispettive abitazioni. Il giudice delle indagini preliminari infatti gli ha imposto gli arresti domiciliari. Cambiamo ancora argomento. Discariche disseminate nelle zone rurali frequentate intorno al centro urbano gelese. Vediamo. Gela, 20 agosto. Percorriamo la strada che da Gela conduce alla vicina Vittoria. Lungo il tragitto è Scempio. Discariche disseminate ovunque ci sia uno spazio, ma anche dove lo stesso spazio confina con la carreggiata. Tanto da renderla quasi inaccessibile. Nei pressi di Spina Sante a seguire nei pressi di Contrada Priolo è tutto uno scorrere di immondizia e odori nauseabondi. Il Ferragosto è passato da pochi giorni. Quel che resta dei festeggiamenti è uno spettacolo che, per chi è costretto a vedere, è davvero raccapricciante. C'è anche chi, in maniera scellerata, appicca il fuoco ai sacchi di spazzatura che sarebbe impossibile contare, rendendo panorama e conseguenze ancora più gravi. E se in città la raccolta differenziata ha stentato a decollare tra correttivi e informazione e si prova a rendere decorosi i quartieri, ad un passo dalla periferia regna l'abbandono assoluto. Ora, il sipario si apre su uno scenario certamente squallido, ma al di là dei problemi legati all'igiene ci domandiamo se non esista un reale pericolo per gli automobilisti che, nelle ore notturne, si trovano a transitare sulle carreggiate occupate dalla spazzatura. E infine le solite domande. Di chi le responsabilità? È ancora accettabile che i cittadini non posseggano quel minimo di senso civico per effettuare la differenziata anche nelle case rurali di campagna, dove si trascorre in allegria qualche giornata di vacanze e si produce quel tanto di rifiuti che sommati producono quello che vedete nelle immagini? Il nostro compito è quello di raccontare e mostrare, ma consentiteci anche un invito ad una riflessione. Se tutti ci occupassimo di fare bene, nel rispetto dell'ambiente e della cosa pubblica, non si starebbe tutti meglio? 17 giovani da tre paesi europei per un progetto sulla tutela ambientale alla riserva naturale orientata del lago Biviere di Gela. Siamo andati a vedere. Giovani che arrivano da tre paesi europei coinvolti in un progetto sulla tutela ambientale che si mettono in gioco in attività manuali. E' la finalità di uno dei percorsi in forma giovani approdato con un carico di entusiasmo alla riserva naturale del lago Biviere di Gela. Manutenzione alle strutture del parco e attività a stretto contatto con la natura in una full immersion in un paio di settimane per il quinto anno consecutivo. Dall'est e dal nord Europa per uno scambio culturale con in forma giovani per delle attività che hanno a che fare con la natura. Sì, questo è uno scambio trinalaterale, qui c'è l'Estonia, Lettonia e Italia. Sono ragazzi che sono venuti qua a scambiarsi esperienze, a parlare sull'ambiente e problemi collegati, ma anche fare volontariato. Quanti giovani sono in forza a questo progetto? 17, 17 ragazzi. E che esperienza è stata per voi? Ah, molto bella, è sempre bellissimo conoscere ragazzi di diversi paesi, vedere la loro motivazione, aiutare a qualche comunità locale. Per me è molto interessante. Insieme con Sascha facciamo parte di Informa Giovani, un'associazione di Palermo, e abbiamo coordinato questo scambio che fa parte di un progetto molto più grande che si chiama No Inclusion, No Growth. Appunto si sviluppa così in ognuno di questi tre paesi, è uno scambio trilaterale. Questi sono progetti chiaramente finanziati dalla comunità europea che danno una concreta opportunità di crescita e di scambio culturale ai giovani, che in questo momento si stanno occupando però di attività manuali. Sì, esatto. Il progetto è finanziato con il supporto del programma Gioventù in Azione e i ragazzi si stanno svolgendo attività di manutenzione delle strutture qui nella riserva. Certamente qualcosa di utile che potrà essere poi fruibile da tutta la città. Esatto, sì. L'intento è proprio questo, di fare qualcosa di utile per la comunità locale. Non è la prima esperienza al Lago Biviere vostra, insomma, dell'associazione. Contate di tornare? Sì, sì. Noi siamo qui, appunto, ci sentiamo di casa. Almeno il terzo anno per me che sono qui e ci troviamo bene, quindi sì. Un'abitazione rurale presa di mira è infine data alle fiamme. Malviventi sono entrati in azione incontrate a Priolo Sottano. Hanno asportato la cancellata e collegamenti alla rete elettrica, le porte e le recinzioni prima di appiccare il fuoco. Le fiamme hanno avvolto e divorato mobili e su pellettili dell'abitazione. Una denuncia è stata a sporta ai carabinieri del reparto territoriale di Gela. L'Oscar parrucchieri uomo-donna cambia sede e inaugura nuovi locali con vista sul mare in via Cartesio, angolo via Ettore Romagnoli e a Gela. E entusiasmo rinnovato e voglia di fare bene caratterizza questa nuova avventura per Oscar ruvio, forte della tradizione familiare, con idee innovative che desidera immediatamente mettere in campo al servizio della bellezza. Questa è stata una scommessa che ho voluto fare. Era già un progetto che avevo già in mente da circa due anni. Ho rimandato dopo il matrimonio, comunque, che ci siamo sposati e quindi adesso abbiamo coronato questo sogno. Spero che, insomma, ho fatto un investimento giusto che comunque oggi è molto difficile indovinare comunque sia il posto che la location e tutto il contorno che c'è. Tu sei molto giovane, quindi avviare una nuova attività che è poi il prolungamento di una tradizione familiare, diciamo. E' comunque coraggioso. Sì, questo sì. Io diciamo che questa cosa anche che ho voluto fare è stato un omaggio ai miei genitori che mi hanno dato quest'arte in mano comunque che io sto portando avanti. Già ho fatto vent'anni di lavoro e spero di farne altrettanto ed essere sempre, come si può dire, sì, presente. E da qui continua appunto un'attività che, dicevamo, appartiene ad una tradizione familiare ma certamente con l'innovazione e puntando chiaramente al futuro. Hai ben chiari i progetti che vorrai fare in futuro? Sì, i progetti sono abbastanza chiari. Adesso noi abbiamo fatto un salone abbastanza innovativo che sia anche il futuro per i giovani. Chi vuole venire anche a trovarci, chi vuole trovare un posto di lavoro aspettiamo comunque anche i giovani che si vogliono inserire su questo campo e siamo ben propensi di accoglierli. Questo è molto bello da parte vostra, dare anche un'opportunità a quei giovani che volessero intraprendere questa carriera. Adesso invece parliamo un po' dei servizi che offrirete alla clientela. Di che cosa vi occuperete e su che cosa state puntando? Siamo puntando, intanto mia moglie adesso ha fatto un corso di nail art quindi manicure e ricostruzione unchia e poi io comunque al top con l'air stylist insomma quindi darò il meglio sulle accoggiature e i tagli che insomma adesso sono accompagnato da un'azienda Cotril S.p.a che è la proprietaria Belen in cui noi faremo molti corsi di aggiornamento ogni tre mesi per dare comunque il meglio dei servizi ai nostri clienti e dare un prodotto di qualità e di impatto. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo subito parlando dell'agitazione che si registra tra i forestali. Sentiamo perché. Stato di agitazione dei forestali in attesa ancora dello stipendio di giugno una situazione che investe in tutto 503 operai stagionali che si occupano del servizio antincendio. Una piccola delegazione capeggiata dal segretario provinciale del sindacato UGL categoria agricoltori e forestali Angelo Ferrara stamattina infatti si è ritrovata dinnanzi la sede dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per manifestare il loro disagio e chiedere risposte. Il problema è che praticamente con questa legge che hanno fatto la regione che ci hanno unificato abbiamo trovato tanti disagi. In sostanza tutto il servizio antincendio che dipendeva dall'ispettorato qua dove siamo in questo momento tutti gli operai ci hanno portato con unificazione all'azienda. I disagi che noi stiamo vivendo sono praticamente i stipendi che in sostanza è dal mese di giugno che lavoriamo. Non prendiamo stipendi ma praticamente per andare a lavorare noi abbiamo bisogno di soldi, anticipiamo soldi di benzina, soldi a parte questo abbiamo disagi in famiglia, disagi dappertutto. Abbiamo bollette da pagare, ritardo, pericolo di tagliare la luce, l'acqua e tutto quello che c'è. Ora dico non vogliamo sapere se la colpa è alla regione, se la colpa ce l'ha l'ispettorato, se la colpa ce l'ha l'azienda. Noi ci troviamo nel mezzo, andiamo sbattendo la testa a destra e a sinistra e fino ad ora non abbiamo ricevuto nessuna risposta di pagamenti. Sappiamo che ci saranno ritardi. Allora in questo momento siamo venuti noi, possibilmente incominciando da domani inizieremo anche a fare un sit-in, non sappiamo ancora dove, ma possibilmente lo facciamo qua, lo facciamo in prefettura, lo facciamo nei posti di lavoro dove ci devono dare noi soldi, ma almeno di metterci perché il servizio che noi svolgiamo non lo possiamo abbandonare. Allora ci mettono in condizione che ci portano nel luogo di lavoro con i suoi mezzi, con tutto quello che hanno per non abbandonare il nostro lavoro che è importante. Facciamo un lavoro importante e criticato da tutti, incominciando dalla regione a finire. La devono finire di dire sti operai sono 25.000, sono 26.000 che devono fare i conti, devono fare una pettinata nelle gradatorie, che ora lo sto dicendo nelle gradatorie, perché spuntano ancora gente dove è in pensione e possibilmente anche gente che è morta che spuntano ancora in gradatorie. 1914-2014, 100 anni della grande guerra raccontati dal cinema. Questo è il titolo del Cineforum organizzato dalla Casa Francescana Sant'Antonio di Padova e dall'Istituto Culturale di Sicilia per la Cinematografia Ollus presso l'Oratorio di Manfria. Il Cineforum rientra tra le iniziative per il decennale dell'Oratorio pubblico di Manfria ed è patrocinato dall'assessorato allo sport, turismo e spettacolo del Comune di Gela. Le proiezioni si tengono tutti i mercoledì d'agosto alle ore 21.30. Vi ricordiamo che l'ingresso è gratuito. E' prevista per sabato 20 settembre prossimo l'ordinazione presbiterale di Don Filippo Celona. La celebrazione avverrà alle ore 19 presso la parrocchia San Rocco di Gela con l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana. Per la quarta volta Gela torna a riabbracciare i suoi figli. Gli manca poco alla quarta edizione dell'incontro annuale con i gelesi emigrati organizzato dall'Associazione Centro dell'amicizia gelese nel mondo e dal Comune di Gela. La manifestazione prenderà il via il 5 settembre con un programma ricco di eventi. Dopo il grande successo riscosso nelle edizioni precedenti, anche quest'anno, personalità del mondo della cultura e dell'arte, commercianti, impiegati, artigiani, docenti e liberi professionisti gelesi si incontreranno per testimoniare la loro presenza di emigrati in diverse zone d'Italia e del mondo. Novità di quest'anno è il Premio Eccellenza di Gela che andrà ai cittadini che particolarmente si sono distinti nel campo della cultura, dell'arte e dell'imprenditoria. La manifestazione avrà il culmi nel 6 settembre al Teatro Eschilo con la consueta consegna delle fasce azzurre e gli ambasciatori dell'amicizia gelese nel mondo. Anche quest'anno a Gela si terrà la manifestazione artistico-culturale Sperone Arte in concomitanza con la festa della patrona Maria Santissima d'Alemanna. L'iniziativa curata dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo è prevista dal 5 all'8 settembre prossimo in via Pisa. Possono partecipare pittori, scultori, ceramisti, fotografi e artigiani. La partecipazione al concorso è libera e non è prevista nessuna tassa di iscrizione per informazioni 339-262-6015. L'Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese, Associazione Sindacale Nazionale per Importante Sviluppo Territoriale, ricerca figure professionali da inserire nell'ambito di CAF patronato con uffici propri, avviati o intenzionati ad aprirne uno proprio, o liberi professionisti, avvocati e commercialisti che vogliono ampliare all'interno delle loro strutture i servizi offerti come il CAF e il patronato. Chiunque fosse interessato alla candidatura dovrà inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail Info chioccio la casa artigiani i gela.org Ultimo appuntamento con l'estate gelese con la musica accolta, domenica 24 agosto alle 21.15 nell'ex convento delle Benedettine, recital del chitarrista Davide Sciacca. L'iniziativa è promossa dal Comune e dall'Associazione Musicale Jets Gershwin. La mafia uccide solo d'estate il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela nell'ambito della rassegna Cinema sotto le stelle. Vi ricordiamo come sempre che l'appuntamento è previsto per le 21.30. Con l'informazione cinematografica si chiude qua questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui, arrivederci. Grazie per aver guardato il video.